Ciao a tutti, e eccoci su Isaac. Allora, stavolta provo a farlo dall'inizio, ma morirò come un pirla, come sempre. Che faccio cagare a sto gioco. E vai, ma francamente non mi interessa. Perché mi diverto, e questo è l'importante di un gioco. Morto. Niente, non mi manca. Vista raggi, sono un po' morto. Rientriamo per vedere se qua c'è qualcosa. No, morto. Andiamo un po' sopra, non mi interessa. Ehi, combinazione. Niente. E vai. Che strana posizione. Va bene, mi risparmia anche una chiave. Quindi a me va bene così. Non so se aspettare. Questa è la sua. Questa è la sua. Questa è la sua. Questa è la sua. Questa è in offerta. Questa è la sua. Vieni qua. Vieni. Nolì. Guarda il letto. Qua. Vabbè, c'ho gli occhi, quindi posso sparare per aprire e prendere un intervallo tra un colpo e l'altro. Uno, due e vai a tre. E' niente, oggi proprio non mi vogliono dare nulla, neanche la moneta che mi serve. Beh, se non mi danno niente... Questo. Andiamo avanti. Mostro. Come vedete, sullo sfondo c'ho la wiki, nel caso mi dimentico cosa fa un oggetto. Guardate gli occhi. Non dai, mori. Neanche devi morirci male. Devi morirci malissimo. Aiuto! Testa. Ho una testa di... Letteramente una testa. Ehi. Aha, mancato. Ehi. Mancato. Ehi. Mancato. Ehi. Mancato. Mori anche te. Ok. Cubetto. No. No, avanti. Secondo. Ok. Dai abecetti. Olè. No. Il problema è sfruttare queste cose. No! Ok. Due. Eh. Sfruttare i nostri dischi, ai coloni. Ehi. I tibiallino. T Charlie Freeman deve poter corgere i sequai della riformanza. pieno di mezzo. Alla parte si sarà. Ti fattere la mia volta. Ti fattere le malli. Non allezto. Ok, non è l'importante. on ok con niente con niente dove saranno le distanze speciali? un secondo romante c'è una bomba due pollicini non quello che volevo volevo la roccia devo potenziare un po' il mio sparo che fa schifo oh bella mia dai ragno scappi non vieni qua te? di quattro st 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 e tu sei al posto la lampa c'è una bombe, non c'è chiavi, non c'è un pannino troppo ma non toccato con le grosse mosche vi devo fare un sacco di questi non bastano due e ricevo allora vediamo cosa mi da il dio la testa del gatto me ne chiede due però ne guadagno uno, rimango tre e quello lì non so cosa fa qualcosa lì fa danno a tutti i nemici, non mi interessa prendo questo come se ne perdesse uno il cuore qua bianco e adesso flak nuovo cuoricino e poi non mascara riep 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 Sacco di soldi, ma neanche mezza chiave, le bombe. Ah, qua adesso ho subito un po'... chiave. Entro chi? Così vado qua nella porta, là, e vedo cosa c'è dentro. Zacc, e questo è un gatto, no. Un uccide mosche. Sono deciso. Allora questo. Perché intanto qua non mi serveva per diventare gatto, nel caso, riuscissi a trovare altri oggetti gatto. posso arrivarci, posso volare i vernicettolini, qua sono un po' inutile perchè non fanno niente, sono quelli che mi hanno avuto un cuore, che non mi serve, una massa, che serve salta, un'altra apertura, eccola qua dai, 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 ole, non ho avuto niente, oh, lasso, lasso cosa fa? non mi serve, non mi serve, dai, alzati, fanno servire una bomba non ci arrivo ok, siamo niente, siamo niente, dua, non ci arrivo, è niente eh, un big fermo ci si vede in due puntiamo su questo contro questo devi puntare su uno in modo tale da limitare il numero di nemici che c'è se cominciano a diventare un po' tanti invece a trovarti nei guai come adesso non 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 andiamo a prendere qualcosa qui non potrei usarla lì qui non posso usarla noltre non nemmeno due eccoci ok andiamo su e proviamo ad andare dal boss qui non ci posso arrivare ed eccoci no no non il 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 par il 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 ora Non lo vuole un bene niente, quindi non ci marzo di questo. Odio gli occhi. Quindi praticamente sono concentrato su di lui, non ho gli occhi che mi uccidono da dietro. Ma adesso, dai che manca poco. Abessi qualche colpo un po' più decente. Magari muori, ole. Non lo vuole, non lo vuole, non lo vuole. Non lo vuole, non lo vuole, non lo vuole. Ufff! 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 Uff! 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 oh me no oh me no no non moro moro mor republicà Ehi, ciao! Ehi, ciao! Ehi, ciao! Non c'è un cuore, non c'è una chiave! Ehi! Una bomba! Gli attacchi di questo qua li odio! Ma ci muoio male! Ed ecco gli altri! Uffa! Lo sapevo io! Ah, che schifo! Ehi, ciao! Ehi, ciao!